Era l'11 luglio del 44 quando Francesco Covolo, papà di Federico Covolo, il noto partigiano e comandante Brocca, venne trucidato con due colpi di pistola alla testa dei nazi fascisti. Aveva 66 anni. Nell'ottantesimo anniversario di quella drammatica vicenda che si consumò sulla strada del trenino Rocchette-Asiago, H9 di Roana, i parenti Lampi e il Comune hanno voluto rendere omaggio a questo uomo, una delle tante vittime della brutalità della guerra e ancora oggi c'è molta commozione nel ricordare quella vicenda. Il 10 di luglio mio padre con un gruppo di partigiani blocca il trenino che sale da Piovene e Rocchette, recupera una decina di casse di armi, fa sei o sette prisionieri che poi verranno rilasciati nella notte. Questo fatto logicamente mette in apprensione i nazifascisti, specialmente la stazione di Asiago e quella di Canove. Mio nonno abitava proprio su quell'edificio lì in cima. Il mattino dopo mia mamma sente bussare alla porta e logicamente apre e sono i fascisti e i tedeschi. Mio nonno fugge dalla finestra, lui attraverso logicamente scende lungo questo prato e qui logicamente erano postati i famosi cacciatori degli appennini che lo fucilano. Un'esecuzione? È stata un'esecuzione. Ecco perciò l'importanza di questo atto che poi logicamente nella resistenza ha un valore molto molto importante. E non si vuole dimenticare? Assolutamente no. Come non si vuole dimenticare il sacrificio di tutte quelle vite nel nome della nostra libertà, della nostra Costituzione, della nostra democrazia, nel nome anche di un'Europa unita. Come ci spiega Anna Maria Bernhardt, pronipote di Covolo altopianese che ha sposato un cittadino tedesco. È molto importante in questa Europa che è nata da tutti questi sacrifici, dal sangue per aver liberato e portato la democrazia in tutti i paesi dell'Unione Europea. È importante appunto creare ponti e non muri. Grazie a tutti.